Ciao e bentornati sul canale! Oggi abbiamo Darth Maul, un sit del lato scuro di Star Wars, Eurospin, vediamo qua. Proseguiamo nell'apertura dei personaggi Flash Heroes, Disney, perché Star Wars adesso è Disney. Questi sono i personaggi, vedete la finestrella trasparente, che si possono acquistare all'Eurospin da qualche giorno. Già, e io vorrei tanto Ray. Oggi sono versione piccolina. Ma questa è quella di Guru Guru? No, ma sono io, Sara. Vai, è vero, ti assomina quando vive la frangetta. Abbiamo già visto Yoda, Chewbacca e Kylo Ren. Aspettiamo Ray, R2D2 e Darth Maul. Per il momento poi abbiamo aperto Leia, Anzolo, C3PO e quindi ci mancano Stoom Trooper e Boba Fett, che faremo le prossime volte, e Darth Maul lo facciamo. Adesso a te l'apertura! Sono curioso. Gira. Non schiacciare qui. Ti gira la mano. Allora, intanto facciamo vedere... Doppia spada. Aspettiamo ad accenderla. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma gira la parte di sopra. Aspetta che... Ecco qua. Guarda quanto... Gira sta parte rossa. Vabbè, poi vedremo. Allora, intanto guarda che bella che è. E... Aspetta a sfilare. Che bella che è la faccia, perché quando sono cattivi e gli fanno la faccia un po' deforme così, sono ancora più simpatici e pucciosi. Allora, sfiliamo la spada. Fai vedere dove si sfila la linguetta. Tac. Accendiamo. Wow! Io intanto prendo gli altri. Aspetta, aspetta, con calma. No, li ho qua io, te li passo io. Questa è la spada illuminata, ho spento la luce in modo che si veda meglio. Infiliamo di nuovo la spada e lo vediamo con la spada accesa. Oggi è giorno ed è complicato spegnere completamente. Sono dal lato scuro! Allora, posizioniamo lui intanto sulla pedana girevole e avviciniamo la pedana girevole. Aspetta, 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 aspetta un secondo. Lo facciamo vedere così un attimo. Intanto che, per il momento, quali sono i tuoi personaggi preferiti? Di quelli che abbiamo aperto? Yoda. Yoda, il primo? Evela. A me piace anche... Però mi piace un sacco Chewbacca perché fa... Allora, come arma la balestra di Chewbacca è bellissima perché si illumina ed è trasparente. Yoda piace anche a me, ma il C3PO con gli occhi che si illuminano non è male. Il mio l'ho dimenticata il C3PO. Esatto. Adesso andiamo a mettere... te li passo io e mettiamo anche gli altri. Tu li accendi e li posizioni. A te questo? Vabbè, accendo qualcosa anch'io. Ecco qua, tieni. Questo lo sei tu. No, questo accendilo tu. Io accendo questo che va sfilato. Aspetta, dammi Leila! Leila in Italia, Leila nella versione americana. Stiamo sul bordo, vediamo se riusciamo a stare più sul bordo possibile. Chewbacca? Lo accendi tu? Dammi Ciube. Aspetta che dobbiamo cercare di farli stare più stretti possibile. Ciube vicino a Yoda. Leila vicino a Anzola. Che è caduto? C3PO vicino a Leila. Io so che ce la puoi fare, io ho fiducia in te. E quello va al centro. E io dove vado? Al centro, così. No, aspetta. Perfetto, ce la possiamo fare. Io metterei lui al centro. Sì, aspetta, ce la possiamo fare. Io lo so che ce la possiamo fare in qualche maniera. C3PO! Vai, manca C3PO, ci sono tutti. E questa è la versione definitiva, perché adesso li facciamo girare un po'. Oltre non possiamo andare, non possiamo metterne altri. Spengo un pochettino la luce per dare un po' di effetto. Vedete gli occhi di C3PO. Leila è girata. Wow! Vediamo i personaggi, vai! La pistola di Leila illuminata, la pistola di Anzola illuminata, le spade laser. Quanto sono belli? Le pistole di Leila Anzola, però non si vede tanto la lucina. Infatti è più bella la balestra. Eccola la balestra mitica. La balestra di Chebeka. Pum, 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 pum. E sono caduti. Iscrivetevi al canale, condividete, mettete un like, schiacciate la campanella per essere aggiornati sui prossimi video. E noi, come sempre, vi salutiamoci al prossimo video. Ciao! Ciao!